è così comodo di no perché ne minero per incognere perché c'era qua la botta in mezzo e la tirare fuori dal cazzo no adesso abbiamo pulito oh non andate di lì a me non mi piace quel coso lì a me non mi piace Grazie a tutti. Vola, vola, sbagliato. E' questa che va su. Porto! Porto, porto, porto. Ma perché avete i piedi? Che rigi a su. Ehi, 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 ehi. Ehi, 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 ehi. Eccolo. Ah, così va bene. Oh, stai più caricato. Beh, ma stai centrale. Stai un po' più carico con queste. Perché va su da su. Dopo chiudi in cima. Devi darli più sotto.